seconda edizione di ora tg ben trovati apriamo come dicevamo con la cronaca nuovo femminicidio in sicilia catena nuova nell'ennese un uomo ha ucciso la giamoglie a colpi di pistola poi si è consegnato ai carabinieri su facebook aveva scritto la vendetta va consumata fredda vediamo insieme il servizio ha raggiunto l'ex moglie in campagna alla periferia di catena nuova nell'ennese e l'ha uccisa a colpi di pistola prima di costituirsi alla caserma dei carabinieri nuovo femminicidio in sicilia il 17esimo in italia rende noto telefono rosa nazionale dall'inizio dell'anno l'omicida è lui filippo marraro 51 anni titolare di un autolavaggio la vittima loredana calì 40 anni luxo ricidio è avvenuto qui davanti alla casa dei genitori di lei dove la coppia viveva sebbene stesse per separarsi poco prima che loredana andasse a lavorare l'ex marito si è presentato davanti a lei per parlare della separazione dicendole che le avrebbe dato un passaggio sino allo studio dove collaborava ma prima di salire in auto l'uomo avrebbe estratto l'arma e fatto fuoco due colpi di pistola diretti al petto loredana è morta sul colpo poco dopo marraro si è presentato in caserma e si è costituito ho ucciso la mia donna aveva altri uomini avrebbe detto i militari l'uomo ha anche raccontato di aver nascosto l'arma una revolvera a cinque colpi nel suo autolavaggio dove gli investigatori l'hanno ritrovata sul corpo della donna è stata disposta l'autopsia il movente che avrebbe spinto marraro a sparare sarebbe stato quindi la gelosia l'uomo era convinto che l'ex compagna frequentasse altri uomini anche se non ci sono conferme in questo senso la loro storia pare si fosse conclusa ad agosto anche se i due come detto continuavano a vivere nella stessa casa a decidere di mettere fine alla loro relazione sarebbe stata proprio loredana una decisione mai accettata da marraro e sfociata questa mattina nel terribile omicidio la coppia aveva due figli in età adolescenziale per marraro era la seconda unione aveva avuto un altro figlio da una precedente relazione dopo il divorzio aveva conosciuto loredana ma anche questa unione era andata male sul suo profilo facebook nella colonna di presentazione l'uomo scrive di essere disoccupato ben organizzato ma soprattutto sembra che recentemente abbia cambiato il suo stato relativo alla relazione in vedovo pare che in passato marraro si fosse già reso responsabile di atti di violenza nei confronti della donna che però non l'aveva mai denunciato la vendetta è un piatto freddo più è freddo e più si gusta aveva scritto sul suo profilo social una frase che fa pensare a un femminicidio premeditato così come poi confermato dalle modalità marraro infatti aveva detto alla ex che voleva parlare con lei della separazione dell'affido dei figli ma addosso aveva una pistola nascosta in manette una nota famiglia di commercianti a messina nove resti tra cui corrieri bloccati agli imbarcaderi utilizzavano auto noleggiate parliamo di droga proveniente dall'albania padre e figli impegnati nel traffico e spaccio di marijuana con la copertura di una tranquilla attività lecita una rosticceria all'angolo dello sfizio nella zona della stazione centrale di messina gli investigatori della guardia di finanza coordinati dalla procura hanno seguito per mesi le mosse della famiglia mangano e questa notte è scattato un blitz che ha portato in carcere nove persone a finanziare il gruppo antonino mangano con i figli francesco e mario alessandro un dipendente della rosticceria giovanni ragusa era invece un attivissimo corriere la droga proveniva dall'albania attraversava lo stivale fino al quartiere di contesse dove vivono i mangano i due corrieri arrestati mario berlingeri di 44 anni giuseppe aguidi 39 entrambi calabresi sono stati trovati con 55 kg di acisce ciascuno a reggio emilia sono stati arrestati due albanesi di 37 e 45 anni a gestire il giro di droga mario alessandro mangano che aveva coinvolto il padre del fratello per prudenza i viaggi venivano fatti con una delle autoprese a noleggio ma è servito a poco le intercettazioni hanno svelato movimenti e passaggi di droga i militari hanno fatto scattare sequestri di sostanze superfacente anche gli imbarcaderi e la marijuana diretta al gruppo proveniente dalla calabria dall'abruzzo e dall'emilia romagna le indagini delle fiamme gialle erano partite un anno fa dopo aver notato strani movimenti nella rosticceria il giro di spaccio era infatti sotto gli occhi di tutti gestito maldestramente dai mangano gli arrestati dovranno rispondere di associazione finalizzata lo spaccio di stupefacenti le indagini sono state coordinate dal procuratore maurizio di lucia un business importante sullo sfondo le cosche siciliane e calabresi incidente mortale la notte tra sabato e domenica a catania in via della concordia piazza caduti del mare muore a bordo della propria motocicletta un noto tautatore catanese vediamo lascia la moglie e una figlia salvatore trovato monastra detto bali tatuatore quarantenne appassionato di moto e musica rock conosciuto nell'ambiente dei motociclisti catanesi che proprio in sella alla sua moto ha trovato la morte domenica mattina poco dopo le tre in piazza caduti del mare al tondicello della playa il tragico incidente sarebbe avvenuto autonomamente senza il coinvolgimento di altri motoveicoli automezzi forse provocato dalla velocità sostenuta al vaglio anche la condizione del selciato stradale un mix di asfalto prima e basole laviche poi con tutto quel che ne consegue in verità si tratta solo di ipotesi all'esame della polizia urbana di catania che sta verificando ogni altra possibile con causa infatti sebbene l'incidente attualmente è catalogato come del tutto autonomo qualcuno ipotizza che da una delle traverse potrebbe essere uscito uno veicolo che a propria volta avrebbe influito sulla marcia del centauro che per proprio conto proveniva da via della concordia con il casco in testa salvatore trovato monastra avrebbe tentato una frenata proprio all'imbocco del tondicello ma senza riuscire a bloccare la marcia della motocicletta avrebbe dunque perso il controllo del mezzo a due ruote finendo rovinosamente sul selciato e contro i gradini di rialzata del tondicello immediati soccorsi ma per il giovane motociclista tatuatore originario di mister bianco non c'è stato nulla da fare sul posto si sono portate anche le volanti della polizia di stato e le pattuglie della polizia urbana che stanno accertando la dinamica ripetiamo non ancora del tutto chiara circa tre settimane fa un altro incidente stradale poco più avanti aveva causato il riferimento di un anziano del posto una decina di giorni fa inoltre un autobus forse per delle autovetture parcheggiate all'estremità del tondicello con una ruota a divelto parte della rialzata della piazzola i cui effetti sono ancora evidenti qui i residenti da anni chiedono perlomeno dei dossi al fine di evitare lo scorazzare soprattutto in ore notturne di autoveicoli e motoveicoli e allora a proposito di incidenti stradali lunghissime code oggi in tangenziale a catania nel pomeriggio e poi a sera causate prima dello svincolo per l'aeroporto da un incidente stradale tra una alfa romeo station wagon e una utilitaria che procedeva procedevano entrambi in direzione di siracusa forse una manovra errata le due vetture sono andate in contatto all'altezza dell'uscita per l'aeroporto il sinistro si è verificato intorno alle 18 feriti leggermente gli occupanti nulla di grave per fortuna sul posto per i rilievi la polizia stradale anche l'ambulanza del 118 oltre ai mezzi tecnici per rimettere in sicurezza la carreggiata lunghissime cose dicevamo si sono dipanate per tutto il pomeriggio e la serata di oggi nell'area della tangenziale che da che parte dall'aeroporto catanese controlli alla movide nelle località nei luoghi della movida catanese sono stati effettuati lo scorso weekend dalle forze dell'ordine etnè nessuna denuncia nel fine settimana nella zona della movida nel centro storico di catania dove in piazza teatro massimo lo ricorderete appena qualche giorno fa era stato accoltellato un cittadino di nazionalità polacca forse per il furto di uno telefonino nessuna denuncia dunque e questo forse l'effetto dei servizi di prevenzione disposti dal questore alberto francini dopo un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che era stato convocato e preseduto dal prefetto claudio san martino il giorno dopo i fatti di piazza teatro massimo agenti di polizia ma anche carabinieri finanzieri vigili urbani hanno effettuato continui controlli dove solita la maggiore presenza di giovani seguendo con particolare attenzione gli esercizi pubblici di vendita di alcolici presidiata l'area che va da piazza stesicolo fino all'affollatissima piazza vincenzo bellini decine le persone identificate controllate senza tuttavia registrare alcun rilievo se non un piccolo litigio tra due persone che l'intervento degli agenti ha spento sul nascere numerose le infrazioni invece rilevate dalla polizia municipale circa di vieto di sosta o in ottemperanze al rigido codice della strada la presenza ha permesso regolare svolgimento del caffè concerto promosso dal comune in piazza vincenzo bellini i servizi continueranno nei prossimi fine settimana al fine di scongiurare fatti delittuosi che evidentemente potrebbero turbare la movida catanese trasformandola da momento di gioia in criticità da ordine pubblico due imprenditori sono indagati per branco rotta fraudolenta sono accusati di avere fatto fallire una società con 5 milioni di euro di debiti l'operazione della guardia di finanza di catania e della tenenza di acireale che ha sequestrato un complesso immobiliare del valore di 2,7 milioni di euro le indagini sono state coordinate dalla procura etnea secondo quanto ricostruito dai finanziari le circostanze del dissesto finanziario patrimoniale di una ditta la leotta srl sarebbero al centro dell'operazione l'azienda era stata dichiarata fallita nel 2013 dal tribunale di catania che aveva maturato nei confronti dell'erario dei propri fornitori 5 milioni di euro di debiti insoluti adesso per due imprenditori di cui però non si conosce ancora il nome la guardia di finanza contesta la grave condotta distrattiva secondo appunto quanto scrivono i finanzieri e che per un attivo patrimoniale di 2,7 milioni di euro che avrebbero dovuto essere impiegati invece per soddisfare i creditori e l'erario questa l'operazione della guardia di finanza di agireare rimaniamo nella zona accese ma cambiamo decisamente argomento torniamo a parlare del terremoto di santo stefano rimane ancora chiusa via floridi a santa maria la stella residente commercianti esasperati hanno organizzato una protesta per avere date per risanamento e riapertura della strada il timore che si stia temporeggiando troppo e che questo alla fine si traduca in un nulla di fatto e per gli abitanti e i commercianti di santa maria la stella frazione di ac sant'antonio sarebbe la fine la sistemazione di via floridi a arteria strategica di collegamento tra cireale di paesi etnei seriamente danneggiata dal sisma dello scorso 26 dicembre ieri invase in maniera pacifica da cittadini e autorità locali al momento vede solo una tappa certa per la giornata di domani in programma nella sede della protezione civile una conferenza di servizi per l'approvazione del progetto di risanamento ma vorremmo vedere ruspe operai al lavoro come avvenuto qualche giorno fa su via cantagallo ha dichiarato stamani michele quattrocchi consigliere comunale che ha organizzato la marcia di ieri allo stato attuale però c'è solo silenzio dopo tre mesi ancora non abbiamo date certe e quindi siamo in grossissima difficoltà sia i residenti per raggiungere la frazione ma i commercianti di più perché il paese viene bypassato e quindi tutte le attività commerciali sono in grossissima difficoltà anche perché abbiamo passato l'inverno in una stagione dura e quindi cerchiamo a meno conforto qualcuno che ci venga a dire ufficialmente la data di inizio lavoro di fine lavoro perché abbiamo visto qua in via cantagallo che abbiamo aspettato a tre mesi e poi in due giorni hanno fatto i lavori quindi mi pare una cosa assurda vogliamo delle risposte certe così magari ci incoraggiamo ho sentito che martedì ci sarà una conferenza dei servizi per stabilire e approvare il progetto però lo vogliamo sapere così io anche perché nella duplice veste di commerciante e consigliere comunale giornalmente le persone vengono a chiedere chiaramente ma se io non so niente ho di ufficiale sentito dire qualcuno stamattina mi diceva addirittura che sanno che già sono stati affidati i lavori sanno il nome della ditta fesserie che girano vogliamo delle certezze ora fino all'estate siamo arrivati con le spalle al muro vogliamo ripeto certezze perché allora uno può anche prendere una decisione di chiudere definitivamente perché si stanno spingendo a fare questo se questo dovesse avvenire sarebbe la fine per sant'amere la stella che in iniziativa spontanea ha anche creato una cartellonistica per agevolare gli avventori abbiamo cercato di fare di tutto ci siamo riuniti i commercianti abbiamo anche se il sindaco si era prestato a farle con ma però ci volevano più tempo sembra solo da burocrazia anche nelle piccole cose perché ci vogliono l'impegno di spesa i preventivi ci siamo riuniti noi e abbiamo fatto una segnaletica per cercare di agevolare le persone che devono arrivare a santa maria la stella una soluzione che però deve essere solo temporanea sì certo naturalmente io avevo un'altra proposta da fare perché c'è un terreno che può passare quel tratto di di faglia però a chi lo dico non ho un corrispondente ho cercato di chiamare alla protezione civile però non risponde nessuno ci hanno abbandonato a proposito di strade oggi l'assessore regionale alle infrastrutture marco falcone ha visitato i tre cantieri aperti dal cas consorzio per le autostrade siciliane nel siracusano l'assessore regionale alle infrastrutture marco falcone ha compiuto oggi una ricognizione nei cantieri in capa al consorzio per le autostrade siciliane in provincia di siracusa la mare monti per canicattini bagni la bretella noto pachino poi il cantiere della siracusa gela nel primo lotto rosolini ispica per quel che riguarda la mare monti opera rimaste incompiute per quattro anni dal valore di circa 11 milioni di euro il caso ha sbloccato lo scorso autunno le opere l'infrastruttura in fase di completamento ed entrerà in esercizio il 4 maggio seconda tappa il cantiere della bretella noto pachino dal valore di 15 milioni di euro anche questo riattivato su impulso del governo musumeci grazie al costante impegno della ditta il primo tratto direzione noto mare sarà consegnato entro il 15 giugno uno spazio temporale sufficiente dunque per assicurare le entrate in esercizio dell'opera prima ancora della vera stagione balneare definito anche il cronoprogramma che porterà poi l'intera bretella al completamento entro pochissimi mesi fermo restando gli impegni assunti dall'amministrazione perché dal punto di vista economico l'azienda possa essere messa nelle condizioni di operare secondo quanto previsto la giornata si è chiusa con il sopralluogo dell'assessore falcone al cantiere della siracusa gela nel primo lotto rosolinispica rallentato dalla crisi di condotte spa l'assessore ha preso atto della ripartenza pieno ritmo dei lavori ed esortato l'impresa cose di la fare il possibile perché si rispettino i tempi il primo lotto dovrà essere completato entro i prossimi 16 mesi per tentare di recuperare 48 milioni del cofinanziamento dell'unione europea che sino all'anno scorso erano stati revocati a causa dei ritardi anche a tal proposito domani falcone sarà a bruxelles per incontrare il commissario europeo corina cretù e concordare un percorso per mantenere il cofinanziamento a disposizione della siracusa gela voltiamo pagina cooking fest catania capitale del gusto per quattro giorni alle ciminiere eno gastronomia e tecnologie di cucina vediamo catania per quattro giorni capitale del gusto con migliaia di chef in città per il cooking fest il salone dell'enogastronomia e delle tecnologie per la cucina organizzato da expo di barbara mirabella in programma sino a domani nel centro fieristico le ciminiere il taglio del nastro lo scorso sabato presenti tra gli altri il sindaco della città metropolitana salvo pogliese e l'assessore regionale alla salute ruggero razza ma anche il presidente nazionale della federazione italiana cuochi rocco pozzulo e il presidente dell'unione regionale cuochi siciliani domenico privitera la cucina di altissima qualità in mostra con un ricco programma di convegne degustazioni all'opera berrette bianche provenienti da tutte le regioni d'italia e dal mondo oltre 300 i cooking show profumi che stuzzicano il palato nel centro espositivo di viale africa che ha anche ospitato il trentesimo congresso nazionale della federazione dei cuochi il trentaseiesimo dei cuochi siciliani e l'ottava edizione di cibo nostrum festa dedicata alla cucina mediterranea spazio anche al vino con catania wine fest organizzato in collaborazione con l'associazione italiana sommelier allestito in apposita area con oltre mille etichette di rossi bianchi e frizzanti in degustazione siamo orgogliosissimi aver creato quelle ciminiere una vera capitale del gusto il cooking fest il salone delle tecnologie per la cucina dell'enogastronomia per una volta avviene un miracolo inverso le grandi aziende l'industria della cucina del contrat talberghiero dell'hotellerie oggi è presente qui per incontrare i buyer siciliani per incontrare quella enorme filiera dell'ospitalità della ristorazione che oggi in un momento di non solo di b2b ma anche di formazione trova alle ciminiere un contenitore speciale poi questo è anche un salone per gli amanti oggi si dice per i food lover per i wine lover perché abbiamo anche il wine fest il catana wine fest oltre mille etichette siciliane in degustazione siamo grati ad ice per questa opportunità e parleremo di tutto di tanto di come oggi la cucina si sia evoluta di come l'ospitalità stia al centro in una terra che credo potrebbe vivere esclusivamente di turismo quindi siamo orgogliosi abbiamo appena iniziato ma siamo convinti che sia una grande opportunità per tutto il comparto agroalimentare attenzione rivolta anche alla prevenzione all'ecosostenibilità nel pomeriggio di sabato convegno dibattito dal tema la salute a tavola moderato dai colleghi alberto cicero e maria torrisi direttore e caporedattore del giornale online cuochisiciliani.it su sicurezza alimentare lotta agli sprechi un onore per la sicilia ospitare due congressi di così ampio rilievo e soprattutto ci consentono di riaffermare quello che abbiamo sostenuto fin dall'approvazione del piano regionale della prevenzione quando si parla di alimentazione dei cittadini si parla inevitabilmente di stile di vita e quando si parla di stile di vita si parla di salute noi vorremmo che si comprendesse sempre di più attraverso modelli educativi che coinvolgano anche le scuole che una sana alimentazione passa per l'utilizzazione di prodotti adeguati da questo punto di vista la sicilia è la terra più adatta per una vera e propria rivoluzione che è una rivoluzione culturale che è una rivoluzione della sana alimentazione ma soprattutto è anche un'occasione di crescita economica per il nostro territorio non dobbiamo mai dimenticare che se oggi la Sicilia è potuta essere nel 2018 la regione italiana con la maggiore crescita di esportazione ciò si deve soprattutto al segmento agroalimentare perché altrimenti sarebbe stato impossibile agricoltura corretta alimentazione sana alimentazione quindi corretti stili di vita sono assieme le ragioni di crescita di una terra che può dare molto di più anche ai suoi cittadini e oggi il salone è stato visitato dal ministro dell'agricoltura e turismo centinaio al fine di omaggiare la cucina siciliana al sistema dell'exporto agroalimentare manca fare sistema lo dice il ministro per le politiche agricole alimentari forestali del turismo giammarco centinaio oggi a catania a margine del trentesimo congresso nazionale della federazione italiana cuochi ospitato a cooking fest anche i nuovi accordi non bastano come ad esempio quello delle arance per la cina si tratta secondo il ministro solo di un primo mattoncino con un paese che ha delle potenzialità pazzesche sotto il punto di vista del business e che si può dunque sviluppare la sicilia è per il ministro una risorsa a tutto tondo che però anche nel recente passato non ha saputo esprimersi al meglio non riescono a partire faremo di tutto anche con la regione per cercare di lavorare per far partire tutti quei programmi che servono per rilanciare l'economia di questo paese però ci vuole anche un po di buona volontà da parte di tutti o quella cosa che continuo a dire che ognuno parla di se stesso dei suoi problemi ma poi alla fine il problema è sempre dello stato no allora lo stato si deve mettere dalla parte dei cittadini e io sono anche qua anche non solamente vestito da da chef per per la giornata odierna ma sto anche cercando di lavorare contemporaneamente a problematiche a risolvere un po di problemi della sicilia ma la sicilia deve imparare comunque risolversi anche da sola i suoi problemi perché se no rischiamo veramente che si aspetta sempre che arrivi qualcuno e poi magari quel qualcuno non arriva e magari qualche opportunità la si perde sebbene l'export sia sempre cresciuto nel corso degli anni e il sistema italia non può non tenere in considerazione che i prodotti siciliani in giro per il mondo sono considerati apprezzati e naturalmente comprati eccellenze siciliane che fanno parte di un più importante contenitore che è quello del made in italy per promuovere l'enogastronomia del nostro territorio del nostro paese voi pensate da bolzano a lampedusa quante eccellenze quante dop quanti gp quanti prodotti dell'agricoltura della pesca dell'allevamento che poi vengono trasformati da maestri della cucina come abbiamo come vediamo oggi il sistema italia non può non tenere in considerazione che abbiamo i nostri prodotti che in giro per il mondo sono considerati sono apprezzati sono comprati e quindi è necessario essere sempre più presenti e far sì che gli stranieri possano acquistare e gustare la nostra cucina le arance in cina non bastano per il semplice motivo che tutti hanno parlato chi ci voleva prendere in giro soprattutto ha parlato che l'accordo con la cina era solamente per le arance lo stesso giorno abbiamo firmato anche quello per la carne suina è stato un diciamo un primo mattoncino noi stiamo andando in giro per il mondo a promuoverci in modo disorganizzato tutti devono promuovere se stesso senza capire che se ci promuoviamo come una squadra riusciamo a portare a casa maggiori risultati a me non interessa entrare nel dibattito tav sì tav no si decide tav no benissimo decidano tav no però a me interessa avere un piano di governo è un piano del nostro paese che inizia a far partire queste benedette infrastrutture io devo trasportare merci e quindi prodotti alimentari e persone perché sono anche il ministro del turismo e quindi o costruiamo le infrastrutture o le merci e le persone sarà impossibile portarle a proposito di turismo ottime prospettive per la stagione croceristica a catania che parte ufficialmente domani con l'arrivo di circa 4 mila croceristi ma da qui alla fine di ottobre ne sono attesi in città al porto di catania oltre 200 mila vediamo catania al centro del turismo croceristico il presidente dell'autorità del sistema portuale della sicilia orientale ed il primo cittadino catanese hanno illustrato stamattina gli incrementi ai flussi turistici previsti nel 2019 delle navi da crociera in transito nel porto di catania solo nel mese di ottobre sono previste addirittura 30 prodi che sottolineano una volta di più l'importante valenza nel campo del turismo croceristico della capoluogo etneo comune autorità portuale sono pronte a migliorare l'accoglienza per i turisti che faranno scala nel porto etneo attraverso percorsi pedonali protetti ed il potenziamento dei servizi di informazione turistica grazie anche a infopoint sistemati nei luoghi strategici che offrono ai turisti le informazioni utili sulla città e sui siti di maggiore interesse storico in questi mesi abbiamo registrato questa possibilità perché abbiamo offerto a tutto il mondo in questo anno e mezzo una possibilità diversa perché diversa perché abbiamo pensato a diverse infrastrutture abbiamo pensato a un'accoglienza migliorata i mercati ci hanno creduto adesso dobbiamo essere noi a mantenere alta questa attenzione ed essere disponibili per tutto quanto è possibile il trend è in crescita triplicare le crociere in due anni non è cosa di poco conto contiamo insieme al comune con le ulteriori infrastrutture che faremo dal waterfront dal dal sedime portuale dal mettere insieme le tante attività in un porto che non è enorme il porto di catania registra dei record incredibili che non tutti conoscono il 2018 ha imbarcato 400 mila tir significa una cosa importantissima per l'economia ma anche per la sicurezza e per l'ambiente ma significa anche avere 400 mila tir in un porto dove i tanti giovani preferiscono stare nel periodo primaverile estive a passare le serate avere 400 mila tir che che circolano avere le crociere avremo le crociere anche di notte e non è una cosa semplice di poco conto significa che la città comincia anche ad essere avvertita come sicura sindaco turismo croceristico sempre più al centro dell'attenzione nel mese d'ottobre saranno ben 30 gli approdi delle navi da crociera assolutamente sì paradossalmente sarà il mese più vissuto dai turisti del mondo del crocerismo internazionale a testimonianza dell'alta valenza di questo segmento turistico in termini di destagionalizzazione che è l'obiettivo prioritario che dobbiamo perseguire in sicilia quest'anno ci sarà un incremento del 65 per cento rispetto al 2018 e del 200 per cento rispetto a tre anni fa siamo passati da 60 mila passeggeri a 205 mila passeggeri il 2019 sono risultati eccezionali che testimoniano il grande appeal della nostra città che impongono una politica di accoglienza coerente rispetto all'eccezionale potenzialità il turismo croceristico che rappresenta molte volte il primo approccio con una nuova realtà territoriale che deve essere conosciuta e apprezzata e che può diventare meta per successivi viaggi con un orizzonte temporale certamente più ampio l'ultimo segmento di questa parte di telegiornale lo riserviamo alla medicina integrata anche perché i rimedi naturali possono essere di aiuto per combattere le malattie cronico degenerative vediamo per parlare di medicina integrata è necessario prima rimodulare il concetto di medicina senza però stravolgerlo in quanto la medicina integrata altro non è che l'insieme delle azioni terapeutiche che mirano alla guarigione del paziente sì ma solo dopo aver contestualizzato la malattia su quel paziente al centro quindi dell'attenzione del professionista chiamato più che a somministrare il farmaco a valutare la storia il contesto l'ambiente che hanno per fondamento il paziente un approccio diverso moderno che a volte cozza con la rudezza del sistema più disposto a seguire schemi e protocolli medici piuttosto che a relazionarsi con la persona che con sistemi assolutamente naturali potrebbe invece essere aiutata a superare lo stato di malessere del ruolo della medicina integrata nelle malattie cronico degenerative si è parlato a fiume freddo nel corso di un convegno promosso dall'amministrazione comunale guidata da sebastiano lucifora nell'ambito del ciclo cultura e arte medicina integrata cioè la combinazione di diversi metodi che mettono al centro la persona bilanci che verrebbero notevolmente ridotti da una disciplina integrata fatta seriamente ci abbiamo provato un po tutti a parlare con le istituzioni ma non è una cosa semplice io personalmente per esempio all'assessore razza mando un messaggio al mese per cercare di interagire per poter parlare di questi argomenti ma sono sempre occupato quindi speriamo che in futuro questo possa essere realizzabile se non abbiamo capito male a volte si rischia di perdere d'occhio il paziente il problema è proprio là la medicina integrata non guarda più la malattia guarda il paziente l'università purtroppo ancora è praticamente concentrata sul sintomo sulla malattia è la medicina integrale è la medicina che possiamo usare ogni giorno appena ci svegliamo possiamo permettere le azioni molto semplici che possiamo usare ogni giorno per migliorare la nostra salute il nostro essere il nostro giorno per farlo diventare ancora più splendido insomma non mettere al centro il farmaco forse mettere al centro l'individuo appunto dobbiamo fare tutte le cose che fanno piacere per noi e svegliarsi al mattino e bere anche un bicchiere di acqua pulita che fa bene per il nostro corpo è già prendersi cura con semplicità verso noi stessi insomma volersi bene anche con piccole azioni quotidiane integrazione significa l'associazione della medicina cosiddetta allopatica con le medicine altre che sono praticamente un arricchimento nessuna delle due medicine è totalitaria ma anzi l'una e l'altra dovrebbero essere associate insieme uniti insieme per essere qualcosa di importante per ottenere la guarigione dei pazienti ho la fortuna di lavorare in un settore della medicina integrata dove conosco tantissimi medici che hanno scelto per arricchire le loro competenze professionali di integrare la medicina tradizionale con altre forme di medicina e sicuramente hanno delle competenze e delle conoscenze estremamente importanti che possono essere utili per guarire come dicevo poco anzi la gente purtroppo le malattie croniche dobbiamo dire che la nostra medicina cioè quelle che ci hanno insegnato all'università anche per esempio in ambito reumatologico perché io sono anche specialista in reumatologia non troviamo delle soluzioni mentre queste soluzioni possibilmente le troviamo se integriamo la nostra medicina con medicine tipo per esempio la yurvedica la medicina tradizionale cinese ma anche quelle più recenti quelle per esempio l'omotossicologia anche persino i naturopati hanno praticamente la possibilità di potersi introdurre e curare aiutarci a curare determinate cose per esempio nessun aggiornamento dalla redazione dunque ci fermiamo termina la seconda edizione di ora tg che avete visto sul canale 89 del digitale terrestre nel sicilia di re tv che avete seguito sul nostro sito internet o sui canali social di re sia su facebook dunque che su youtube prossimo appuntamento con ora tg domani alle ore 14 sempre ovviamente su questi canali grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata a voi tutti le previsioni meteo per la giornata di martedì 2 aprile 2019 torna l'instabilità in sicilia nuovo cambiamento delle condizioni climatiche possibili precipitazioni nelle zone interne temperature in calo la più elevata a Messina 17 gradi 16 a Palermo e Trapani 15 gradi ad Agrigento e Catania 14 a Siracusa 12 nel Ragusano la più bassa 9 gradi ad Enna 10 gradi ad Enna 21 gradi 150 gradi ad Enna Grazie a tutti.